questo quadro clara l'hai disegnato in orizzontale e questo quadro perché clara ha un raggio di azione che è più agevolato in orizzontale perché dipingi da seduta e l'hai fatto un anno fa con un colore che clara è rodevole per questo colore vuoi far vedere il viola noi vediamo anche qui proprio a firenze questo colore viola clara piace darlo pesante è un nome particolare questo è un pianeta si chiama neptuno è un quadro che è tutto fatto in acrilico e detona quest'altro colore il rosa che è un bel contrasto no e con questi marchi che come ne hai fatti col pennello questi qua clara sì sì che bello perché sei andata questa volta più leggera e con la peglice mi piace e questa gestione era difficile per te clara fare le curve questo neptuno e l'omogeneità della cosa hai risciolta che sei sentita libera bello complimenti mi piace quando vedo clara che si mette in difficoltà e ti levi da queste difficoltà e questo sia anche per le altre difficoltà che ci sono davanti per ciascuno di noi ciao